Negli occhi della sorella Maria Pia, 23 anni di segreti, bugie e di una speranza, quella di avere giustizia per Teresa Bottega, scomparsa da Spoltore nel 1990 e mai più trovata. Teresa, che all'epoca aveva 35 anni e due figli, sarebbe stata uccisa dal marito Giulio Cesare Morrone, reo confesso, costituitosi alla polizia di Pescara lo scorso anno dopo che dell'assassinio della moglie aveva parlato fuori dal confessionale soltanto al prete di Spoltore, Don Giuseppe, amico dell'uomo, che aveva mantenuto il segreto fin dal 1998, fino a quando un testimone in diretto non ha raccontato tutto alla squadra mobile diretta da Pierfrancesco Muriana. Morrone, che oggi è comparso davanti al GUP del Tribunale di Pescara, avrebbe ucciso la moglie dopo l'ennesima lite e poi si sarebbe disfatto del corpo gettandolo in un fiume in provincia di Ferrara. Nel corso dell'udienza odierna, il difensore di Morrone ha presentato una memoria per chiedere una perizia tecnica sulle trascrizioni di alcune intercettazioni ed il GUP ha deciso di pronunciarsi entro il 7 novembre. All'udienza erano presenti Maria Pia, Lucia e Gianni Bottega, le due sorelle del fratello della vittima. Maria Pia Bottega ha detto ai giornalisti di volersi rivolgere al Papa affinché il pontefice intervenga sul prete che ha raccolto la confidenza di Morrone e non ha fatto nulla per spingere lo stesso a costituirsi. A vent'anni dall'omicidio di sua sorella Teresa, che effetto le fa arrivare in aula di tribunale dopo che per tanti anni le è stato detto che sua sorella era scomparsa? Un sacco di adrenalina, tremò ancora. Speravo che questa cosa non fosse mai vera, purtroppo è una realtà di vita. In questi anni voi comunque siete rimasti in contatto perché ovviamente non sapevate di quanto era accaduto, però che spiegazioni vi ha dato su quello che è successo? No, nessuna. Noi quando ci guardavamo in faccia io gli dicevo che me l'aveva ammazzata e lui lo sapeva che io lo sapevo. La motivazione che lui ha adotto era perché sua sorella faceva uso di stupefacenti? Lui dice così. Allora facciamo fuori tutte le persone che fanno uso di stupefacenti e non diamogli la possibilità di recupero. La figlia ha perdonato il padre, voi fate ancora fatica? Ma la figlia è la figlia. Io sono la sorella. Io sono la sorella di Bottega Teresa. Non perdono.